Riferire tutto a Dio, ultimo fine. O figlio, se veramente desideri farti santo, devo essere io il tuo supremo ed ultimo fine. Un fine che renderà puri i tuoi affetti troppo spesso piegati verso te stesso e verso le creature. Ed è male, giacché quando in qualche cosa cerchi te stesso, immediatamente vieni meno ed inaridisci. Tutto devi dunque ricondurre in primo luogo a me, perché tutto da me proviene. Considera ogni cosa come emanata dal sommo bene e perciò riferisci tutto a me come alla sua origine. Acqua viva attingono a me come a fonte viva l'umile e il grande, il povero e il ricco. Colui che si mette al mio servizio con spontaneità e libertà di spirito riceverà grazia su grazia. Invece colui che cerca onore e gloria non in me, ma altrove, colui che cerca di letto in un suo bene particolare, non godrà di quella gioia vera e duratura che allarga il cuore. Anzi, incontrerà molti ostacoli ed angustie. Nulla di ciò che è buono devi ascrivere a te. Nessuna capacità devi attribuire ad un mortale. Riconosci invece che è Dio, senza del quale nulla ha l'uomo. Tutto è stato dato da me. Tutto voglio riavere. E chiedo con forza che l'uomo me ne sia grato. È questa la verità che mette in fuga ogni inconsistente vanteria. Quando verranno la grazia celeste e il vero amore, allora scompariranno l'invidia e la grettezza del cuore, perché l'amore di Dio vince ogni cosa e irrobustisce le forze dell'anima. Se vuoi essere saggio, poni la tua gioia e la tua speranza soltanto in me. Infatti nessuno è buono. Buono è soltanto il Dio. Sia egli ero dato al di sopra di ogni cosa. E sia in ogni cosa benedetto.